Benvenute! Oggi iniziamo a sbagliare il meraviglioso catalogo di Natale del libro Shea, quello del 2015. Wow! Vedrete che ci sono delle profumazioni fantastiche, dei set regalo meravigliosi, per essere sicuri di fare sempre il regalo giusto e anche da autoregalarsi. E intanto vi dico subito che questo catalogo è valido fino al 27 dicembre 2015, ma come vi dico anche nel video, se voi volete essere sicuri di ricevere i vostri prodotti entro davvero le feste, è meglio che facciate l'ordine per il 10-15 dicembre al massimo, perché visti i tipi anche delle poste e dei corrieri è meglio prevenire. E ora intanto sfogliamo insieme il catalogo. Ciao! Oggi guardiamo l'album di Natale 2015 del libro Shea. Prima di iniziare vi dico subito che la scadenza sarebbe il 27 dicembre 2015, questo album. Ma se volete essere sicuri di ricevere i vostri prodotti prima delle feste, è bene fare l'ordine entro il 15-10 dicembre, perché ora che si fa l'ordine e poi dopo che io riesco a spedirvele e le cose ci vuole un attimo di tempo, soprattutto durante le feste. Quindi mi raccomando. E adesso partiamo. Voglio essere abbastanza veloce, quindi non vi mostrerò tutti i prodotti nel dettaglio, ma le varie linee. Quindi la prima linea che vi mostro, eccola qui, è quella, più si vede meglio qui, con la prima azione vaniglia spezziata, che comprende il bagno, il seppone per mani, è limitata a gel doccia, latte a corpo, crema mani, il gel doccia, questo con le paillette e il basso a molabbra. Le stesse prodotti ci sono anche da linea mandorla e arancia, quindi sempre crema mani, gel doccia, bassa a molabbra, eccoli qui. E abbiamo il set. Il primo set è 6,95, che comprende le crema mani delle due profumazioni, più bassa a molabbra, questo ha arancia candita e questa confezione. Altra profumazione che vi mostro è l'arancia candita e cannella, eccola qui. Quindi davvero dei profumi molto invitanti. Questi piccoli altri mamani che mancava. Si può anche personalizzare il set attestando i cestini a parte, quindi il cestino medio, il cestino piccolo, che sono in metallo, oppure le confezioni regali in cartoncino color oro, eccole qui, quella piccola e quella grande. Abbiamo ora l'esplosione di sapori, perché eccole qui, che sono le varie versioni. Questa, a 9,95, è la versione 7 base. Si può avere delle tre profumazioni, quindi arancia candita e mandala, oppure arancia candita e cannella, oppure vaniglia spezziata, e comprende il gel doccia, il latte colpo e le guante sfogliante. A 9,95, il set un pochino più completi, è quelli qui. Quindi questi da 12,95 hanno il cestino in metallo, e comprendono sempre delle tre profumazioni, quindi a scelta tranquillamente. Ed è la crema mani, il gel doccia, il balsamo labbra, ed è il sapone per le mani. I cestini un pochino più grandi, 14,95, e quelli qui, sempre delle tre profumazioni a scelta, e comprendono il cestino più grande in metallo, il sapone per le mani, la crema a mani, il gel doccia, il latte corpo ed il cestino, ve l'ho già detto. Ora, eccole quelle complete, 19,95, c'è il cestino grande, con tutte le sette della profumazione, quindi sia quello della vaniglia, l'arancia candita, oppure l'arancia candita e la mandorla, oppure cannella. Il gel doccia, il sapone liquido, balsamo labbra, crema a mani, latte corpo, gel... sì, l'altro gel doccia, ok, questo qua con le paillettes, e della spugna da massaggio. Vi mostro un'altra edizione limitata, perché è la mela cannellata, che ha tutti questi prodotti, quindi il latte corpo, il bagno a doccia, il mini bagno a doccia, le rettualette, il mini e le rettualette, eccola qui, la crema morbida per il corpo, la candina profumata e la pastiglia carrescente da bagno. Anche in questo caso ci sono i set, quindi quello più piccolo, 9,95, che comprende il latte corpo e il gel doccia, o quello più grande, diciamo 9,95, con tutti i prodotti. Ora vediamo il make-up, perché ci sono tutti edizioni limitate natalizie. Il primo è di Nuance & Vision, che comprende tante sfumature, eccole qui, di cipria, quindi per uniformare l'incarnato. Abbiamo anche i rossettini di cremintata ed il matitone glossy. Andiamo qua, e vediamo il mascara volume Xeer e le due palette di ombretti, queste che sono molto belle in questo astuccio ed elegante. Si hanno le palette di due colorazioni diverse, quella tonalità dark, che è questa, e con la tonalità light, che è questa un pochino più colori meno accesi. Per imbalare anche i vostri gusti e il vostro incarnato. Abbiamo anche la trousse make-up, che a scelta si può avere con il, cioè questa trousse, poi il matitone glossy e la matita occhi, in questo caso è quella champagne, ma si può avere anche nell'azzurro celeste e nel blu. E matite occhi da sole, i colori sono queste. Ecco qui, e questo vi mostro, questo che è davvero bello, perché è una trousse completa, 3495, ecco la che guardi che bella, che comprende 48 ombretti, 8 gloss e 4 blush. La cosa molto particolare di questa trousse è che questo scompatto qui, ecco, si può rimuovere e si porta in borsetta, componendo la paletta, ad esempio, qui fanno vedere un esempio, prendendo un farde, due gloss e una fila di ombretti. Gli ombretti sono suddivisi a file, mentre questi a quadretti, ecco. Qui comunque ve lo mostro meglio nell'immagine, piuttosto che come lo spiego io. Andiamo avanti e vediamo le nail art per Natale, perché abbiamo i cofanetti nail art. Ad esempio, questo, il 995, che comprende lo smalto, lo smalto champagne, lo smalto a polpura e il top coat glitterato color argento. Altro set molto carino è questo, con paletto glitter, perché comprende il pennello a ventaglio, i glitter, ecco di qui, che sono palettes proprio per nail art, e dei top coat per fissare. Qui abbiamo invece la Trousse Makeup Occhi, 19.95, molto bella, che comprende il mascara Elixir, e lo stile occhio Waterproof Nera, che è perfetto in accostamento. Vediamo ora i profumi, perché abbiamo, intanto, il nuovo profumo set, eccolo qua, 27.95, il cofanetto profumato, che comprende il gel doccia, da 50 ml, il latte profumato da, eccolo qua, 50 ml, e il profumo va con la 30 ml. Ci sono anche i porti singoli, e i cestini. I cestini, vi li mostro queste, ma sono in tutte le profumazioni. Per esempio, questo cestino, 32.95, comprende il cestino, che è molto verino in metallo, poi il latte profumato da 200 ml, qui nella palle grande, ed è l'Ele Parfum Vapo, eccolo qua, da 50 ml. Altro cestino può essere quello con il suo Elixir, oppure il proprio soli, oppure anche il set, in questo caso, è Comunevide, ed è Comunevide, se la vediamo qua, scusate, è Calcnot d'amore 24.95, con il profumo intero e la mia Italia, oppure le portate a una collezione, eccolo qua, l'inizio è limitata. L'altro cestino, sempre le 3.95, questo è The Evidence, e abbiamo il latte corpo, il profumo e il miei profumo. Altro set, eccolo qui, questo è Comunevide, e ha il 26.95, il cofanetto, che comprende il profumo, il gel dolce profumato e il latte corpo profumato. Questa è tutta la linea, nel caso si voglia comporre. E questo è l'altro cestino, che comprende il 34.95, il miei profumo, il Leile Parfum e la candela. Stessa cosa anche con Neroli. Neroli ha il set, sempre profumo, mini profumo. Oppure Vanille Noir, stessa cosa, che comprende sempre il set come il profumo e i miei, oppure da comporre, e poi le linee dei giardini, mattino giardini. Perché? Ve ne mostro una, e poi lo porto anche in tutte le altre affermazioni uguali. C'è la linea completa, il 22.95, che comprende delle detroit vaffole, da 100 ml, il latte colpo da 200 ml e il gel doccia da 200 ml, nel testino. Oppure la versione più piccola, da 19.95, con le toilette da 100 ml e il gel doccia da 200 ml. Stessa cosa si può avere, per la profumazione della cinesi in fiore, aggume in fiore, rosa fresca, lilla malva, rosa fresca e il gel doccia, e il muggetto in fiore. Abbiamo anche gli altri set, quelli qui, che li fanno vedere per le altre affermazioni di te verde. Ora abbiamo il set per le mani, perché il set mani comprende, il gel doccia da 19.95, un grattacchio molto bello, ed è questa Trousse Mani, che è chiusa e così, quindi perfetta da portare il viaggio in borsetta, e poi la crema mani sublimatrice, mani e unghie, anche da qua, la crema SOS Mani, che è quella che pulisce senza acqua, e il Top Coat Effetto Gloss, Gloss. Idea Regalo, ad esempio questa iniziale, Idea Regalo Viola, 12.95, per quello di Viola, quindi il gel doccia alla lavanda, la crema all'infinito ai piedi senza lavanda, e il gommaggio ai piedi, oppure Idea Regalo Gialla, stesso prezzo, con il gel doccia carangola della Malesia, la crema mani lunga durata, e l'olio secco a nutriente. La stavano veloce lo so, ma è per farvi vedere a tutti. Il set completo della tradizione da mamma, come tutti gli anni, ed è oppure il rituale di bellezza. Abbiamo anche l'idratazione per accede sulla pelle, che comprende tutta la linea Dio, ed è che... 95 compende il... aiuto a potete vedere, il crema all'olio di nutriente al burro di karité, e il latte nutriente intenso per pelle molto secche. Altro set, 7.95, tutti gli anni lo troviamo, perché è quello per il viso, che comprende il gommaggio per il viso, e le maschere a effetto ghiaccio. Altri set bio, eccoli qui, perché abbiamo quello, stesso piccolo set, con quella di adottazione intensa, che comprende il laccio idratante corpo all'aloe, il gel doccia all'aloe, ed è un guanto esfoliante, la stessa cosa, oppure con quello nutriente, ecco qua, crema d'olio nutriente. Ora abbiamo i prodotti per i bambini, quindi, abbiamo questi bellissimi set per bambini, questi piccoli qua, poi c'è 95, l'approssimazione è quello alla vaniglia, aspettate, se potremmo stare da qua, ecco, quello alla vaniglia, con il braccialetto, scusate, quindi il gel doccia, profumo, e il braccialetto, oppure abbiamo i piccoli set, con la valigetta, in questo caso, i mini tagli, con la valigetta, oppure, sempre la valigetta, con le mini tagli, il filo da vaniglia, e qui della pesca e lampone. Abbiamo anche questo bel peluche, che è venuto assieme, al bagno doccia a vena bio, oppure, abbiamo anche il portachiavi e lo set, ecco qua, sempre 9,95, che si ha con questo set, che comprende il bagno doccia alla vena, e il mini latte valutato alla noce di cocco. Si può anche scegliere il prodotto single, e per quest'area fa la valigetta, fatta da 9,50, e comporre i vari set. Qui abbiamo il set per i capelli, che in questa coppettina, per esempio, si può avere il set, il riparatore, nutrito, colorato, con la sciaccia a balsamo, e poi vi mostro anche la linea, eccola qui, con la tosse, perché questa è la linea, per i capelli sensibili, ma anche bellissima tosse, ed comprende, a 4,95, il latte detergente lenitivo, e la crema idratante antirossore. Si può avere anche, sempre con la trousse, il latte detergente lenitivo, e la crema idratante lenitiva, quindi o antirossore o lenitiva. Ora vi mostro quest'altro trousse, ecco, per la pelle opacizzata, che comprende, a 2,95, il gel detergente purificante, e la gel crema zero difetti. Si potrebbe avere anche l'altro vanity, che comprende, il gel detergente purificante, e il gel crema opacizzante, quindi in base alle vostre preferenze, e finisce con questa trousse. Stessa cosa, anche con il da vegetale, con le due linee, quindi quella, e ci si è imitato, il gel detergente freschetta, poi la crema idratante intensa, 24 ore, o la crema, il gel crema per le pelle miste, idratante intensa. Ci sono i sette, i cofanetti a regalo, e quelle quarte, le varie linee, la serum vegetale, l'XL 79, la crema rish, anti-ex global, quindi davvero tantissime linee. Ora abbiamo anche l'antirughe mirato, per il regalo perfetto. Questo beauty, molto molto carino, eccola qua, si può comporre, con i vari prodotti, non so se questo si mostra meglio, no, quindi vi faccio vedere qua, questo beauty che lo possiamo comporre, con i sette rughe lifting, eccola qua, che compaiono la Vichina 95, e le contornocchi, e della crema giorno, oppure si può comporre, con il trattamento giorno, della linea rughe, le luminosità, e le salviettine struccanti. Oppure con le linee anti-ex global, che ha le maschere, le rimatilizzanti, e della crema giorno, e sempre il vanity. Ora, ci sono anche i regali dell'uomo, ovviamente tutti i sette, sempre dei formati maschili, quelle che conosciamo, anche il vanity, in questo caso, il vanity dell'uomo, la trusse dell'uomo, con 19-5, che comprende, il gel doccia, corpi e capelli, ed il balsamo dopo barba, e il schiuma da barba, e il trattamento idratante. Anche, altra trusse, sempre, che poi, in questo caso, abbiamo, ed è, il balsamo dopo barba, il gel doccia, corpi e capelli, con la menta gaciale, il gel da barba, ed il gel detergente. Ultimo prodotto, ce l'ho fatta, non essere troppo lunga, la BB cream, ed è per la pelle, spetta 6 in 1, e nelle varie colorazioni, ovviamente, quindi light, media, oppure scura, con questa bellissima pochette, a mano a 5. Questi erano tutti i prodotti, e vi ricordo, che l'ho di Natale, e vi auguro, buone feste. Eccoci, abbiamo messo il mio altro catalogo, spero, in una stanza, davvero troppo lunga, ma avete visto, che è un catalogo, davvero, super pieno, di prodotti, di collezioni. Qui sotto, come sempre, il link, per quanti termini, per riformazioni, per gli ordini, semplicemente, e anche il link, per scaricare il formato PDF, il catalogo di Natale, così potete scaricarlo, sul vostro computer, e sfogliarlo con calma, scegliere i set migliori, per voi. E io, e intanto, vi auguro, buone feste, con un po' d'anticipo, e non mi resta che augurarvi, buoni acquisti, tramite i passomati, crema giocato del mondo, di Euroshé. di Euroshé. Grazie. Grazie. Grazie.